Sono raddoppiati nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus in Toscana. 120 in più nell'ultimo bollettino sulla diffusione del Covid-19 rispetto al report precedente. Le province con il maggiore incremento di contagi sono quelle di Firenze, più 36, Pisa, più 32 e Arezzo, più 13. L'età media dei nuovi casi è di circa 43 anni. Per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico e il 25% paucisintomatico. Complessivamente, i contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Toscana arrivano a toccare quota 14.827, mentre gli attualmente positivi ad oggi hanno superato le 3.400 unità. Tornano ad aumentare anche le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o asintomatiche, così come gli isolati in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 86 nuove guarigioni che portano il totale a 10.261, cifra che rappresenta il 69,2% dei casi totali. Sulla fronte dei ricoveri, le persone nei posti letto degli ospedali toscani dedicati ai pazienti COVID sono 119, due in più rispetto al bollettino precedente, di cui 22 in terapia intensiva. Fortunatamente non si registrano nuovi decessi, restano quindi 1.164 le vittime in Toscana dall'inizio dell'epidemia.